Onorevole Rampelli, prego Presidente Rampelli. Ringrazio Presidente Rosato, Sottosegretario, colleghi deputati. Una riflessione aggiuntiva che non può fare a meno di partire dall'approccio confusionario di questa direttiva, anche nella sua applicazione nei diversi Paesi europei, fermo restando che, come noto e lo ricordo, alcune nazioni non aderiscono alla Bolkenstein o comunque la disapplicano senza che ci sia da parte dell'Unione Europea e delle sue eurocrazie particolari motivi di risentimento. Probabilmente negli anni trascorsi si è fatta nei confronti dell'Italia circonvenzione di incapace. È probabile che non ci sia stata la capacità negoziale per dare all'Italia quei diritti che altre nazioni, senza dover troppo faticare e penare, si sono invece conquistati sul campo. E quindi la considerazione preliminare che va fatta rispetto a questa direttiva, lo ricordo a proposito di confusione, che è stata, diciamo così, quasi rinnegata in alcuni principi applicativi dal suo stesso padre, Fritz Bolkenstein, il quale in interviste, ma anche in presenza, è venuto, mi pare, proprio due anni fa, qui in Italia e ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali, in maniera molto rigorosa, ha detto in lungo e in largo che le modalità applicative di quella intuizione erano state completamente travisate, manipolate. Quindi dovremmo, in teoria, se la confusione arriva al punto da vedere rinnegati i principi di questa direttiva dal suo stesso padre ispiratore, dovremmo mobilitare il Governo italiano, una volta per tutte, perché questo appello è stato fatto già negli anni trascorsi, nelle precedenti legislature, per riaprire un negoziato sulla direttiva Bolkenstein. Altre direttive sono state riviste, lo citava qualche collega nel corso di questo dibattito, c'è un margine, almeno per precisare i livelli di applicazione, per espungere, come chiedono in molti, alcune aree, alcuni comparti da questa direttiva. E noi metteremo alla prova il Governo da questo punto di vista. A cominciare dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la cui autorevolezza internazionale è tale e tanta da non lasciare dubbi rispetto alla sua eventuale volontà di porre autorevolmente a Bruxelles la questione dell'applicazione della Bolkenstein, che è solo uno dei segmenti che rischia di mettere a repentaglio gli interessi nazionali. Gli interessi nazionali. Quindi noi vogliamo capire se il Governo, sostenuto da una maggioranza bulgara, si sarebbe detto qualche tempo fa, ha intenzione di far valere questa sua forza per tutelare gli interessi nazionali e quindi alcuni asset strategici, tra cui noi mettiamo anche i comparti interessati dall'applicazione della Bolkenstein, mi riferisco al comparto della balneazione, piuttosto che a quello del commercio sulle Repubbliche, i cosiddetti ambulanti, ma non meno rilevante è la nota vicenda delle guide turistiche che sono di fatto equiparate, vergogna delle vergogne, a dei accompagnatori turistici che non hanno svolto alcun percorso di studio, che non sono laureati, che non hanno affrontato esami di Stato, che non hanno un'abilitazione, che non sono dei professionisti e probabilmente per un mero errore di traduzione c'è stata questa confusione per cui anche le guide turistiche sono finite nel tritacarne di questa direttiva europea. Penso e spero, caro Sottosegretario, che il Governo voglia già in questo dibattito, quando arriveremo alla fase del voto, dare delle indicazioni, sciogliere alcuni dei dubbi che si sono manifestati in quest'Aula oggi. rammento che non può che essere questa la strada da percorrere, perché noi non mi risulta che avremo grandi vantaggi da un punto di vista degli interessi della nostra comunità nazionale nell'applicazione della Bolkestein. Non credo, per esempio, parlavo poco fa di guide turistiche, che i nostri operatori culturali avranno la possibilità, perché manca la materia prima, di riversarsi, in particolare nei paesi del Nord Europa, a approfittare, diciamo così, della direttiva Bolkestein per poter entrare nel mercato tedesco, nel mercato svedese, nel mercato olandese, negli altri mercati del Nord Europa, perché appunto lì non c'è il Panteo, non c'è il Colosseo, non c'è il Palazzo dei Signori, non ci sono le preesistenze museali, archeologici, i beni culturali e monumentali di cui dispone l'Italia, sono una grande ricchezza, noi la dobbiamo comunque tutelare e salvaguardare. Altrove, il principio della reciprocità non è applicabile, ma non solo non è applicabile nel campo appena citato del turismo, non è applicabile neanche negli altri due campi, che cosa si può andare a gestire in termini di arenili nel Nord Europa, che cosa ci danno in cambio, proprio volendo fare un ragionamento terra-terra, dozzinale, le imprese italiane che operano il campo della balneazione possono vedere applicato il principio della reciprocità o no? Mi pare proprio di no, se poi togliamo la Spagna e il Portogallo e la Croazia, giustamente, davvero non c'è proprio più nulla da andare a rovistare per provare a dare magari alle grandi imprese, con la loro enorme esperienza, per esempio della rivea adriatica, la possibilità di applicare la Bolkestein al di fuori dei confini nazionali. Non c'è materia, non c'è neanche per il commercio sulle repubbliche, posto che i centri commerciali nascono praticamente nel Nord Europa, nascono dove ci sono climi rigidi. Noi abbiamo un clima fortunatamente mite e abbiamo la possibilità di questa sorta di specificità tutta italiana dei mercati rionali, del commercio sulle repubbliche, appunto, che viene fatto da imprese piccole, talvolta a conduzione familiare, che comunque consentono attraverso l'utilizzo proprio e proficuo di questi spazi pubblici, appunto, di unire un principio di libertà economica e un principio anche di utilità profittevole. Io, caro sottosegretario e cari colleghi, penso che questa sia una battaglia importante e penso che vada portata innanzi con il massimo della determinazione possibile. Nel caso della gestione degli arenili, intanto anche noi riteniamo, visto che la Bolkestan viene applicata per la gestione dei servizi, quindi c'è anche lì un dilemma da cercare di approfondire, perché lì siamo in presenza di concessioni demaniali e non di gestione dei servizi. Potrebbe essere il passo successivo quello dei servizi pertinenti, ma il dato fondamentale è quello della concessione demaniale. Lì si palesa un altro problema che non è certamente irrilevante. Ed è quello comunque rappresentato dal fatto che per la conformazione anche geomorfologica della nostra nazione le coste sono di fatto un confine. Non è che è proprio la cosa più normale del mondo consentire a soggetti, anche se soggetti economici e non militari, ma comunque soggetti economici stranieri, di venire a gestire le aree demaniali di confine della nostra nazione per un totale di 8 mila chilometri di coste. Io penso che sia veramente improprio e quindi va fatto salvo anche questo principio, chiamiamolo per facilità di comprensione, di sovranità. Ma va anche applicato l'articolo 158 del Trattato fondativo della Unione Europea. E concludo, Presidente, il quale viene troppo spesso trascurato. Ne sono stati citati un paio, certamente, ma c'è anche questo che prevede la coesione economica e sociale dell'Europa, degli Stati nazionali, delle imprese. Una coesione che è di fatto indirizzata alla crescita economica, al benessere delle imprese. E mi pare che nel caso di un'applicazione pedissequa di questa direttiva, noi avremmo invece il tracollo di ampi settori dell'economia, sia direttamente, sia indirettamente coinvolti perché facenti parte del cosiddetto indotto. La nostra mozione e questa è l'ultima battuta che faccio, ha lo scopo certamente di mettere in ordine questo settore, ha lo scopo di dare degli indirizzi chiari al Governo, ha lo scopo di stimolare il Governo a farsi rispettare in Europa, a riaprire un tavolo, perché questa è l'unica soluzione possibile, perché quella direttiva che pure muoveva da principi chennessiani, diciamo così, in termini economici, è una direttiva che invece applicata alla lettera va in direzione diametralmente opposta. Lo diceva prima il collega Fassina, io non credo che sia possibile, diciamo così, attraverso il regime delle gare, mettere in competizione la Red Bull, tanto per fare un esempio pratico di una grande, gigantesca multinazionale che si è appalesata nell'Adriatico, nella zona di Trieste, con un'impresa a conduzione familiare. La libera concorrenza deve avere un suffisso, una parola aggiuntiva, che è quella dell'equità, libera ed equa concorrenza, devono competere tra loro soggetti equipollenti, altrimenti diventa il dominio dei soggetti più forti a discapito di quelli più deboli. Grazie Presidente Rampelli.